There's no place I'd rather be 5, 4, 3, 2, 1 E a tutti ragazzi, oggi ragazzi, siamo qui, tornati con una delle mie reaction verissime Oggi ragazzi, siamo qui per fare la reaction di Fabio Rovazzi, fit, Gianni Morandi, volare Per questo video ragazzi, mi raccomando, aggiungiamo il meno di 20.000 like E vi ricordo che io questo video ragazzi, non l'ho mai visto, giuro, non l'ho proprio mai visto, mai sentita, giuro eh, giuro, giuro, buona visione Oh mio Dio ragazzi, ma questo è il logo di Fabio Rovazzi? Cioè ma, ma quello vero? Ragazzi sappiate che questa cosa non l'ho mai sentita, non so neanche il testo, giuro, giuro Mi fa volare Vero, è vero Oddio ragazzi, ho quei mani grossi, così quando corre, si vedono solo quelle Non è uno scherzo epico ragazzi, ho finito malissimo Come tenzione è molto più tranquilla di quelle altre che ha già fatto Fabio Beh, si, uno sa correre, la due, la due Mi fa volare Anna Tutto ci doveva scrivere, fotografa Proprio cognome Eh, me ne spero Ah, i video di Fabio ragazzi che Cioè tipo i finali che durano le ore E allora? Ho organizzato tutto io, stavo sempre a casa su Facebook Beh ragazzi, spero che questa reaction vi sia piaciuta Vi ricordo che il video di Fabio Rovazzi volare lo trovate sul suo canale YouTube Eccolo qui, anche primo in tendenze Dato ragazzi questa qui è la mia playlist di musicoli Quindi se volete andarmi su musicoli questo qua è il nome della mia playlist Così ascoltate le canzoni carine che ascolto io Detto questo, niente ragazzi Stoltre mi sono tutti quanti su social network Tutto il link in qui sotto nella descrizione Sono solo iscritti, iscritti, iscritti E non ci sono più belli E niente di là Ciao, ciao, ciao belli Ciao, 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 ciao Ciao, mi fa volare Mi fa volare Mi fa volare Mi disturbare Mi disturbare Atterrare Starà bella Ah, mi fa volare Ah, mi fa volare Ah, i video di Fabio ragazzi che C'è tipo i finali che durano le ore però che Anna Cari Che cremi Mi fa volare Pa